Splendida notizia per il volto di uomini e donne, che finalmente ha trovato una nuova fidanzata Ha avuto due esperienze nel dating show di Maria De Filippi, ma sono state poco interessanti per lui, nel senso che i suoi obiettivi non sono stati raggiunti Però adesso è riuscito a conquistare il cuore di una bellissima ragazza, che ha presentato con una serie di foto su social Il volto di uomini e donne ha fatto vedere la nuova fidanzata sul suo profilo Instagram Partner in love ha semplicemente scritto come Dida Scalia, a conferma del tanto amore che c'è tra i due Si sono immortalati al mare, in una calda giornata estiva, e come testimoniano le immagini postate, amano recarsi spesso all'estero Il volto di uomini e donne ha una nuova fidanzata, chi è? Possiamo subito darvi dei dettagli interessanti su questo volto di uomini e donne, che in passato ha preso parte alla trasmissione e che ora ha una nuova fidanzata Dieci anni fa corteggiò l'atronista Valentina Dallari, poi nel 2017 si ripresentò in studio sempre come corteggiatore dell'atronista Nilou Faradati Ma in entrambi i casi fu mandato via Lui è Gianluca Tornese, che si è legato sentimentalmente ad una ragazza che si chiama Mari Castinosa Quest'ultima vende giocattoli per bambini nella città in cui vive, ovvero Napoli, ed è sconosciuto al mondo della tv e dello spettacolo in generale I due spesso e volentieri hanno effettuato dei viaggi da sogno in Repubblica Dominicana, a New York e Bangkok Tre anni fa Gianluca Tornese ha partecipato anche alla Pupa e il Secchione, mentre nel 2019 è stato ai soliti ignoti Ora si gode invece il grande amore con la sua marica